Ciao, sono Giovanni Salaris, anche io lavoro per broker per la telefonia, ve lo consiglio perché è un ambiente giovane, dinamico. La cosa che mi ha fatto riflettere è stata l'onestà e la semplicità di questa azienda. Non sposi l'operatore telefonico, ma sei sempre dalla parte del cliente. Non sposi l'operatore di energia elettrica, ma fai sempre gli interessi del cliente. Con le conciliazioni hai molte opportunità e soprattutto il cliente si rende conto del valore aggiunto che gli dai, che non sono tutte le aziende che lo fanno. I benefici sono le tante opportunità che crea Broker per la telefonia e soprattutto che il cliente ti vede con occhi diversi. Non sei il solito venditore, mordi e fuggi, ma sei il consulente e diventi quindi un collaboratore stretto dell'azienda.